Eccole qui pronte a scendere in campo Pro Azzurra, Muzzate e Gallarate per il big match di prima categoria Giro ne ha Giancio per Bredici Un po' di spazio numero 11 Occhio in area di rigore Bredici mette dentro Grande chiusura di Marchi Poi è un brevice di testa Cantaluppi controlla con il petto Si sposta a palla su Mancino e calcia Martignoni Marchi strappa Buonissimo, un gran pallone A Bredici di forza Poi Poglio di lato interessante per Azzurra Occhio numero 11 Passa Azzurra Occhio in area di rigore Controllo al destro Sul fondo No, ancora Azzurra A sinistra Uh, occhio perché qui Piva Si è fatto male Speriamo mille di gravi Tutta tutta Va a inducare per la corsa Rini Pagani Occhio in area al destro Martignoni Occhio in area per pagani tutto solo la scivolata di Martignoni a questo rigore Col destro E la Pro Azzurra mozzate E in vantaggio 1-0 Il calcio di rigore di Mireku Il delirio Degli giocatori in maglia verde E' uno che è un'area di farlo di Rini Pagani E' un'area di farlo di Rini Pagani Non ci arriva Bregnali Non ci arriva poi Il pallone della speranza Martignoni Piove il pallone Un goop di testa lo allontana, occhio allora che si può scatenare il contropiede del Mozzate, la palla dentro di Tutone per la corsa di Gattuso, non c'è più il portiere, arriva Issan, occhio perché ancora ha possesso vivo. Arriva il triplice fischio, abbiamo un campionato in prima categoria, vince il Mozzate. Grazie.